Alghero adotta la nuova Carta dei diritti della bambina, il documento promosso dalla FIDAPA sulla base del programma sociale sostenuto da 100 paesi nel mondo e adottato da oltre 300 comuni in Italia. Il documento della Giunta contiene una serie di azioni mirate a sensibilizzare l'opinione pubblica sul contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, a un'educazione dei giovani libera da pregiudizi, spesso all'origine di episodi di violenza, a promuovere parità sostanziale tra i sessi. La Carta contiene una serie di punti fondamentali, tra i quali il diritto della bambina ad essere protetta e trattata con giustizia, dalla famiglia, dalla scuola, dai servizi sociali, sanitari, dalla comunità e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste. Garantito inoltre il diritto ad essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali, in posizione di pratiche culturali che ne compromettano l'equilibrio psicofisico. Nell'adottare la nuova Carta di diritti della bambina, la Giunta Comunale di Alghero ha concesso il patrocinio alla FIDAP per le iniziative legate alla promozione dell'iniziativa.